Musica Signore e signori buona domenica e vi do il benvenuto in una nuova edizione del Tg6 la settimana. L'assessorato regionale alla sanità ha presentato un nuovo modello di gestione per far fronte al sovraffollamento dei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi. Assessore, questa mattina avete presentato un documento che riguarda il sovraffollamento dei pronto soccorso, documento che nelle prossime ore arriverà in giunta. Sarà deliberato tra poche ore questa presa d'atto di un documento importante per quanto riguarda il sovraffollamento dei pronto soccorso della nostra regione. È un argomento che abbiamo affrontato nei diversi mesi, affrontato attraverso confronti con i dipartimenti dell'emergenza, con le cure primarie. Arriviamo a questa presa d'atto di questo importante documento che, ripeto, andrà a stabilire non solo quello che è un'analisi, le motivazioni per cui c'è questo sovraffollamento, ma soprattutto delineerà dei protocolli da attuare, sia per i pazienti meno gravi e sia per quelli gravi. È da sottolineare che abbiamo considerato importante anche l'attività da svolgere nell'ambito del territorio, perché molti pazienti devono trovare risposte sul territorio, specialmente per i codici bianchi e verdi, e non arrivare a pronto soccorso. Quindi una complementarietà di una presa in carico del paziente, ma soprattutto attraverso questo atto che l'agenzia ha prodotto, si stabilirà anche il rapporto con il personale, che voi sapete è un elemento importante, anche perché sono carenti gli specialisti in questo campo. Avete spiegato in conferenza stampa che ci saranno delle linee generali, ma poi tutto dipenderà da ogni pronto soccorso. In base ai numeri dei pronto soccorso delle varie ASL ci saranno delle azioni conseguenti? Diciamo che per quello che riguarda il personale abbiamo fatto degli standard di personale che sono parificati alle attività, quindi agli accessi. Chi ha più accessi avrà più personale, chi ha meno accessi avrà meno personale, perché sennò ci può essere del personale che lavora relativamente a bassi carichi di lavoro rispetto ad altro personale che ha carichi di lavoro molto alti. Quindi si ratti una ridistribuzione e questo sarà carico delle direzioni di genere delle ASL, perché loro avranno a disposizione tutti i dati dei vari ospedali della loro ASL. E lì, secondo l'attività, secondo gli accessi, disporrà il personale in maniera più opportuna. L'importante è il lavoro in questa fase anche della medicina territoriale e dei medici di base? In questo momento di pandemia è utile per il Covid, perché voi capite che se un asintomatico o un posto asintomatico va a pronto soccorso, l'inizio è un'altra fila lunga ed è difficile di missione perché bisogna mandarlo e alla fine se è l'asintomatico non mi va a occupare un posto ospedaliero, lo rimandiamo a casa e rimandandolo a casa serviranno delle procedure che dovranno attuare i medici di base, le usche, eccetera, per poterlo monitorare a casa. Il Covid oggi, fortunatamente, nonostante questa sua alta virulenza, è un fenomeno più territoriale che ospedaliero, per cui ci sono molti raffreddori, ma le polmoni sono rarissime. Perché questa forma pare non dia tante polmoni, magari anche aiutate dai vaccini. Per cui è importante che ognuno faccia il suo lavoro, soprattutto gli utenti siano indirizzati verso il luogo più opportuno di cura. Noi abbiamo il paradosso, per esempio, che spesso vuol dire che nelle malattie infettive abbiamo ricaricolato il raffreddore solo perché c'è il Covid e l'infezione grave magari sta in un reparto di gente ospedaliere, questo non può più accadere. Entro ferragosto sarà sgomberato il ferro di cavallo e lo ha annunciato il presidente della regione Marco Marsilio. Il progetto di riqualificazione punta ad un quartiere con un mix funzionale di residence e servizi. Vediamo. Visita nei quartieri sensibili di Pescara. Ieri per il presidente della regione Marco Marsilio, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Sospiri, l'assessore Liris e il consigliere Testa, fa ripuntati sul complesso del ferro di cavallo di Rancitelli che andrà in conto ad un abbattimento nell'ambito di un'operazione in sinergia tra regione, comune di Pescara e Ater. Secondo quanto riferito dal governatore, entro poche settimane saranno esaurite le procedure di sgombero dello stabile. L'amministrazione comunale insieme all'Ater deve terminare lo sgombero degli ultimi alloggi, il trasferimento degli aventi diritto in nuove case, nelle altre case che si sono rese nel frattempo disponibili. Poi c'è il passaggio delle osservazioni a cui deve rispondere l'amministrazione comunale al piano di ricostruzione perché dal punto di vista urbanistico è l'amministrazione comunale a governare questo passaggio. Io spero che si faccia presto, ma l'amministrazione regionale insieme all'Ater sarà vicina come lo è stata con l'amministrazione comunale e con il sindaco per fare il più presto possibile. Speriamo già entro l'estate di aver finito di liberare tutti gli alloggi entro ferragosto e poter così dare, non appena il consiglio comunale avrà definitivamente approvato il progetto, poter andare a gara e iniziare con le opere di demolizione. Il progetto di riqualificazione di Regione Comune Ater punta ad azzerare i 200 appartamenti presenti per poi realizzare 56 unità abitative di minori dimensioni dai 45 ai 60 metri quadrati, uffici pubblici e poi portare servizi per scongiurare l'effetto di mero quartiere dormitorio. Fare un quartiere con un mix funzionale di servizi, di residenze, di case moderne e efficienti con i balconi, non gli alveari che si sono visti fino ad oggi nelle case popolari fa davvero la differenza e faremo un'opera di risanamento come mai si era vista in questa città. In Via Lago di Borgiano è stato già aperto il cantiere che porterà all'abbattimento di tre edifici. Il governatore ha poi visitato in Via Sacco un laboratorio artistico nel quale sono attivi una trentina di giovani di Villa del Fuoco, tra cui alcuni diversamente abili e due detenuti, i cui manufatti saranno installati nel Parco della Speranza di Via Lago di Borgiano. Sono una decina le associazioni che hanno firmato un protocollo d'intesa con il Comune di Chieti per la rieducazione e il reinserimento sociale di soggetti detenuti. L'obiettivo è mettere in rete tante associazioni che sono funzionali alla inclusione sociale, con specifico riferimento, in questo caso a persone ristrette in carcere per l'esecuzione di una condanna penale. A coordinarla è il Comune di Chieti che stamani ha sottoscritto un apposito protocollo con la Casa Circondariale di Chieti, il garante regionale dei detenuti e le associazioni. È un'opera estremamente meritoria, effettuata qui nel nostro capoluogo, forse una delle poche città che applicano questo accordo. Così come abbiamo sperimentato in questi due anni l'attività lavorativa dei percettori di reddito di cittadinanza, sicuramente troveremo a queste persone del lavoro da fare utile sia per loro che per la società. È una rete che si sta costruendo che è Walk in Progress. sarà costruita insieme a altri partner proprio per far sì che alcune persone che hanno pagato la loro pena con lo Stato, con la società, possano essere dignitosamente reinserite nel lavoro e soprattutto nella società civile. Questo è un grande segno di civiltà e chiaramente ci fa solo onore. Rieducare chi è in carcere e dar loro l'opportunità di reinserirsi nella società non è solo un modus operandi previsto dalla legge, ma è anche il modo migliore per evitare che queste persone tornino a delinquere, ricadendo negli errori precedenti. Siamo circa per adesso 10 traenti e istituzioni e io spero che andremo a crescere, ne sono completamente a svolta sicuro. Il nostro compito è quello di metterci in rete, lavorare in sinergia per poter meglio fare il nostro lavoro. L'oggetto è quello di lavorare sulla persona detenuta, sia durante la fase dell'esecuzione della pena, quindi durante la permanenza in carcere, in misura alternativa, articolo 21 o quant'altro, e molto anche sulla fase della dimissione, in maniera tale che possa rientrare nella società secondo un vero processo di inclusione sociale, che è vantaggioso per tutta la comunità. Come sottolineato dall'assessore comunale alle politiche sociali Mara Maretti, deus ex machina dello sviluppo del progetto, questo protocollo destinato a soggetti detenuti sarà un valido test per poter in futuro allargare la rete all'inserimento di persone che hanno altre fragilità. Nuova operazione anti-contrafazione della Guardia di Finanza di Pescara che ha sequestrato migliaia di articoli di bigiotteria. Gli agenti sono ora impegnati per ricostruire la filiera di approvvigionamento del materiale. Ascoltiamo. Prosegue il pieno denominato stop fake ad opera degli uomini della Guardia di Finanza di Pescara che hanno effettuato un nuovo sequestro amministrativo di quasi 50.000 articoli di bigiotteria venduti da uno shopper illegale bengalese nei pressi della stazione centrale di Pescara. Merce che si va ad aggiungere agli oltre 93.000 pezzi non conformi già requisiti nei giorni scorsi sempre dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria per un valore commerciale che si aggira intorno ai 120.000 euro. Gioielli falsi, non in regola con la normativa sull'etichettatura dei prodotti, orecchini, bracciali, anelli, oggetti che sarebbero andati a diretto contatto con la pelle pur risultando privi delle informazioni sulla loro composizione. Un esame approfondito degli articoli ha fatto emergere la mancanza di packaging adeguato e presenza di materiale tossico del tipo nickel responsabile di molte reazioni allergiche con coloranti organici non conformi alla legge europea che si trasferiscono facilmente alla pelle sudata e provocano eczemi e arrossamenti. La sanzione applicata in questi casi può arrivare fino a 26.000 euro. Tra le regole principali per difendersi dai falsi, spiegano le fiamme gialle, l'attenzione ai prezzi, quelli molto economici indicano scarsa qualità, e rivolgersi a venditori autorizzati che garantiscono la sicurezza e la provenienza della merce. Il controllo economico del territorio, quando orientato all'anticontraffazione, garantisce e tutela la salute collettiva, commenta Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Anche stavolta, conclude Caputo, le investigazioni vanno avanti per ricostruire la filiera illecita di approvvigionamento e di smistamento sul nostro territorio dei prodotti pericolosi sequestrati. Fondo impresa donna e boom di richieste, ma in molti rischiano l'esclusione. Al Mise ben 488 domande, ora la Regione studi un suo sostegno. Fondo impresa donna e boom di richieste al Ministero per quanto riguarda la nostra Regione, però c'è il rischio che non ci siano fondi a sufficienza. Diciamo che sì, l'aspettativa era enorme da parte delle imprese femminili nell'accesso al credito a questa misura che le donne imprenditrici aspettavano da tempo. Il problema è nella modalità di invio, nel senso che alla fine si è rivelato un vero e proprio click day. Quello che emerge dai dati che abbiamo attinto dal fonte ministeriale è che nella nostra Regione ci sono state un numero di domande che percentualmente rispetto alle grandi regioni dove anche il numero di imprese sono maggiori e siamo sempre sopra soglia. Quindi l'Abruzzo è un'impresa che registra una percentuale di presenza di imprese femminile che è mediamente la più alta rispetto alle altre imprese della nostra nazione. Ci troviamo con questa analisi dei dati che ahimè ci porterà poi a vedere tante escluse da questo fondo. La nostra richiesta oggi è proprio nei confronti della Regione Abruzzo perché finalmente si faccia un'azione concreta rivolta al tessuto imprenditoriale femminile. Le risorse sono tante che possono essere usate dalla pianificazione delle risorse europee per la programmazione prossima al PNRR. e quindi chiediamo alla Regione di farsi carico anche di questo settore, di questo comparto dell'imprenditoria femminile che comunque fa registrare anche dei dati importanti di PIL per la nostra Regione. Sarà possibile inviare entro il 22 luglio la domanda per la selezione di prestazioni sanitarie aggiuntive promossa dalla ASL di Chieti Lanciano Vasto che con questa iniziativa cerca di far fronte alle assenze del personale sanitario causate dai contagi da Covid-19. La ASL di Chieti Lanciano Vasto ricorre a prestazioni sanitarie aggiuntive con un bando per garantire prestazioni sanitarie anche in un momento così difficile. I contagi da Covid-19 hanno infatti decimato il personale sanitario della ASL e hanno messo a dura prova l'organizzazione. L'infezione ha colpito il 10% del personale, 70 medici e 274 infermieri complessivamente. E per non penalizzare i servizi si è pensato a prestazioni aggiuntive. Abbiamo dovuto parlare soprattutto con un avviso per fare aderire il personale sanitario sia medio che infermieristico per far fronte a questa emergenza dei contagi sul personale. Quindi noi ci aspettiamo, come è già successo in altre occasioni, una visione molto ampia del personale per poter permettere di andare a sostituire quello che il personale è contagiato. Le domande scadono il 22 luglio. Questa è una delle leve che abbiamo escocitato come strategia aziendale. Altre leve le stiamo studiando, quelle che potrebbero essere per esempio anche l'ottimizzazione del postimento in base al tasso di occupazione delle unità operative, soprattutto in alcune discipline, quando su luglio ed agosto vengono meno il libro. Le richieste ulteriori sono quelle che hanno sempre dato, che non lo chiediamo, naturalmente al tutto quanto il personale, che in questi due anni, dopo il terzo anno di pandemia, si è sempre stato disponibile a supportare l'azienda. E quindi chiediamo veramente di fare squadra a tutti i parchi, tant'è che adesso gli avvisi non sono più le prestazioni aggiuntive unità operativa, ma la questione può essere di tutto il personale, in modo praticamente di far sentire che tutti facciamo parte di una squadra, tutti facciamo parte di questa azienda e non possiamo assoltre permettere di avere servizi essenziali, carenti soprattutto in questa fase. Dinanzi alla prefettura di Pescara, presidio dei lavoratori delle GSA, gruppo servizi associati, società che gestisce in apparto i servizi integrativi anticendio in prossimità delle gallerie ubicate nelle autostrade A14, A24 e A25, per chiedere garanzie e migliori salari. Rolando, oggi c'è stato questo sit-in a Pescara da parte dei lavoratori della GSA, i motivi di questo sit-in e poi avete chiesto, ottenuto anche un incontro con il prefetto di Pescara, cosa avete chiesto? Questi presidi si stanno svolgendo su tutto il territorio nazionale, nello specifico quello che è stato indetto qui davanti alla prefettura di Pescara attiene i lavoratori che operano nelle autostrade abruzzesi e marchigiani, quindi parliamo del tratto abruzzese e marchigiano della A14 e poi le autostrade A24 e A25 che collegano Pescara, l'Abruzzo con il Lazio. Questi lavoratori assicurano un servizio supplementare di controllo rispetto ai rischi legati agli incendi che si possono verificare nelle gallerie. E sappiamo che il fenomeno in particolare nel tratto abruzzese e marchigiano è molto sentito, è molto importante perché sono davvero tante le gallerie dislocate nelle tratte autostradali. Il problema è che a questi lavoratori viene applicato un contratto che noi definiamo pirata, cioè un contratto che non riconosce i diritti dei lavoratori, che riconosce delle retribuzioni molto basse. Si pensi che da quando è iniziata la nostra protesta, da quando siamo riusciti a intercettare questi lavoratori che sono venuti loro, loro stessi, a chiedere aiuto alle organizzazioni sindacali, si sono affrettati a rinnovare un contratto che non veniva rinnovato da 13 anni. Quindi sono stati questi lavoratori senza un rinnovo contrattuale per 13 anni e per vedersi poi riconoscere la misera somma di 30 euro. E noi questa cosa siamo venuti a dirla anche alla Prefettura, così come sta accadendo in tutta Italia. Peraltro oggi è in programma anche una prima azione di sciopero in Toscana di 4 ore e cui seguirà un'ulteriore azione di sciopero, questa volta a livello nazionale, in programma per il prossimo 25 luglio. Il senatore Luciano D'Alfonso in conferenza ha denunciato il clamoroso silenzio stampa della giunta regionale sulla sentenza del Tar Abruzzo favorevole alla regione e al trasporto pubblico locale in merito al lavoro portato avanti dalla precedente giunta. Il senatore ed ex presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso questa mattina in conferenza stampa ha denunciato il clamoroso silenzio della giunta regionale sulla sentenza del Tar Abruzzo favorevole alla regione e al trasporto pubblico locale. Si tratta della recente sentenza con cui la sezione staccata di Pescara del Tar Abruzzo, respingendo tutti i ricorsi presentati dalle società di trasporto private, ha legittimato l'operato della precedente giunta regionale che a settembre del 2017 aveva provveduto all'affidamento in house del trasporto pubblico locale a Tua. La società unica abruzzese di trasporto interamente partecipata dalla sola regione che attualmente gestisce l'80% del servizio di trasporto pubblico regionale con il restante 20% delle tratte sub affidate in concessione agli operatori privati tramite gare d'appalto. Alla conferenza stampa ha partecipato anche l'onorevole Camillo D'Alessandro che nel 2017 era sottosegretario ai trasporti della giunta guidata dal presidente Luciano D'Alfonso. Per me ha fatto notizia il silenzio, il disinteresse, forse il minimalismo di una sentenza storica del Tar di Pescara che come ha sempre dimostrato anche in passato segna e fa giurisprudenza a livello internazionale e anche nazionale. Con la sentenza del 4 maggio 22, la numero 00176 del 22, il Tar di Pescara stabilisce sentenzia che la condotta della regione Abruzzo relativamente a Tua è stata limpida, lineare, resistente, di qualità rispettosa delle leggi europee ed italiane. Quella che ha fatto in modo da affidare a Tua il TPL della regione Abruzzo. Questo affidamento per un valore di 900 milioni di euro nei dieci anni è stato oggetto di contenzioso da parte dei portatori di interessi privati. La sentenza falcidia, cancella tutti i ricorsi e spiega che non avevano ragione di esistere rispetto a quei motivi e rispetto ad una indiscutibile legittimazione. Ma c'è un passaggio della sentenza dove si parla che la delibera ha realizzato una condizione di profitto ragionevole per i privati, il che significa che prima c'era un profitto irragionevole. Ma non va bene il silenzio della regione. Io ritengo che la regione debba fare pubblico incomio nei confronti di funzionari, dirigenti e direttore, che hanno saputo lavorare a questa straordinaria attività, pensata allora e coltivata dopo. La denuncia di alcuni disservizi all'ASL di Pescara, ma anche le proposte per migliorare i servizi. Di questo ha parlato nel corso di un sit-in dinanzi al CUP dell'ospedale Spirito Santo di consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Pettinari, una sonora bocciatura all'operato della giunta regionale per quanto riguarda la sanità pubblica in Abruzzo, in particolare a Pescara, passano le settimane, però il suo giudizio rimane un giudizio sempre molto critico. Partiamo subito da denuncia di gravi disservizi che stanno mandando nel caos generale l'ASL di Pescara. PetTac, vi ricorderete, la PetTac serve per la diagnostica oncologica, un macchinario importantissimo. a seguito delle nostre tante battaglie, finalmente un anno fa è stato acquistato e installato all'ospedale di Pescara. Prima si pagava 8.000 euro al giorno di affitto, vi ricorderete, 8.000 euro al giorno di affitto. Bene, questo macchinario è stato collaudato a maggio dell'anno scorso. A distanza di un anno, dopo due mesi dalla scadenza della garanzia, guarda un po', il macchinario si sfascia 15 giorni fa e lascia a terra, a piedi, decine e decine, centinaia di malati oncologici a data da destinarsi. Questo macchinario, in questi giorni, a seguito di denunce e controdenunce mie, pare sia stato riparato solo ieri, spendendo 20.000 euro. Però, uno, non è stata fatta l'estensione della garanzia, si sfascia due mesi dopo la scadenza della garanzia. Due, abbiamo scoperto che non è stato sottoscritto il contratto di manutenzione ordinaria, che fanno tutti e questo è già l'emblema dei grandi disservizi e come vengono gestite le cose nell'Asi Pescara e quindi nella regione Abruzzo. Andiamo oltre, abbiamo scoperto che nonostante c'è un ospedale Covid pagato decine di milioni di euro, ecco, in questo preciso istante i reparti si stanno sporcando, nello specifico medicina e geriatria hanno delle ale Covid all'interno dei reparti dove ci sono pazienti Covid e il personale sanitario è costretto a fare da spola, dallo sporco al pulito, dal pulito a sporco. Se c'è un ospedale Covid non si capisce perché i malati Covid all'interno dei reparti non vengono trasferiti in ospedale Covid, una gestione completamente dissennata e fallimentare. Cosa scopriamo? Questa è una chicca inedita, mai nessuno l'ha detto, che con tre anni di ritardo regione Abruzzo solo qualche giorno fa ha predisposto il piano di gestione del sovraccarico e del sovraffollamento in pieno soccorso, quando il governo imponeva che si doveva fare nel lontano 2019. Esistono due figure giuridiche, i convenzionati e i dipendenti, i primi non hanno le tutele e i diritti che hanno i secondi, tipo il TFR, 13esima, legge 104 con G di vari. Ora cosa succede? Che al di là di questa disparità di trattamento per la quale rivendichiamo una legge nazionale che risolva per tutte le regioni questa problematica, noi stiamo lottando anche perché non vengano demedicalizzate le ambulanze. Oramai il tentativo della politica nazionale è di ridurre il personale, togliere i medici dalle ambulanze, sta accadendo in Calabria, regione meno virtuosa, sta accadendo in Toscana e in Veneto. Io ribadisco l'importanza della medicalizzazione, la presenza del medico. Pensate che Pescara che ha 135 mila abitanti dovrebbe avere due ambulanze medicalizzate, in realtà ne ha una sola. Quando interviene quell'ambulanza il territorio è scoperto. Adesso cambiamo argomento, parliamo di sport. Nonostante gli arrivi di Mora e Ghiabua, il Pescara che ha iniziato a lavorare ieri a Palena è ancora ampiamente incompleto. Resta il centrocampo il reparto più bisognoso di interventi. Con Pezzella ancora indeciso, il Delfino pensa ad Andrea Arrigoni, giunto a scadenza di contratto col Teramo. E' scattato ieri il ritiro del Pescara a Palena, ma la squadra è ancora decisamente incompleta, anche oltre le aspettative. In questa fase embrionale della stagione si mette in conto di avere un organico da completare, ma la sensazione è che si sia più indietro del dovuto. Anche tenendo presente che una parte del gruppo, che da ieri lavora a Palena, lascerà la maglia bianca-azzura nelle prossime settimane. Viene da pensare ai giovani Belloni e Bocic, ma occhio anche a Frascatore, Cancellotti e Rasi, le cui uscite possono liberare spazio all'innesto di altri terzini. Vanno inseriti elementi a centrocampo. Ieri ha sostenuto le visite mediche lo svincolato Luca Mora, che poi ha firmato il contratto e si è messo subito a disposizione di Alberto Colombo. Nelle prossime ore farà lo stesso Emanuele Giabua. Innesti che si aggiungono ai giovani Lombardi e a Germinario, quest'ultimo proveniente dall'eccellenza piemontese. Troppo poco, ecco perché il presidente Daniele Sebastiani e il DS Daniele Delicari stanno spingendo per l'arrivo di Salvatore Pezzella, cui affidare la regia della squadra, ma senza risultati. Il giocatore attende ancora proposte dalla B e tarda a dare il suo sì. Si complica la strada che porta a Igor Radrezza, il fantasista della Reggiana, sul quale nell'ultima ore sta concentrando le sue attenzioni la reggina che si è appena affidata a Filippo Inzaghi. Nel caso difficile battere la concorrenza del club dello stretto, che garantirebbe la Serie B al fantasista, su cui resta vigile anche la Spal. E allora il Pescara guarda altrove e per il ruolo di play pensa ad Andrea Rigoni, svincolatosi dal Teramo, cui sta dando comunque precedenza. L'esperto centrocampista attende sviluppi dal ricorso al Coni e in caso di ulteriore bocciatura potrebbe rompere gli indugi e il Delfino potrebbe assicurarsi uno dei migliori giocatori nel ruolo in categoria. Sul fronte Mezzala il Pescara continua a guardare nella rosa del Cittadella. In stand-by la posizione di Davide Mazzocco, gli uomini mercato biancazzori strizzano l'occhio a Simone Icardi, Mezzala di Gamba, ex Casertana e Virtus Entella. In attacco presto Luigi Cuppone si unirà al gruppo dove c'è già e lavora l'argentino Facundo Lescano, arrivato dall'Entella. Qualcosa si muove per il reparto dei centrali di difesa. Sebastiani e De Ricari riflettono sull'ipotesi di portare in biancazzurro Luca Coccolo, 24enne di proprietà della Juventus e che ha messo insieme appena 11 presenze lo scorso anno in Serie B tra Spalle e Alessandria, mentre torna in auge per l'ennesima volta l'ipotesi Riccardo Brosco di proprietà del Vicenza con cui ha un altro anno di contratto. Per questo reparto non c'è grande urgenza per la presenza in organico di Ilanes, Ingrosso e Veroli. Intanto l'amichevole di lusso del 24 luglio potrebbe perdere una sua attrazione. Mario Balotelli sta per lasciare i turchi della Dana Demispor per trasferirsi in Svizzera al Sion. Nel caso attenzioni indirizzate sul grande ex Birkir Bjarnason oltre che sul tecnico Vincenzo Montella. Si terrà lunedì pomeriggio l'udienza al collegio di garanzia dei coni sul ricorso presentato dal Teramo contro l'esclusione dalla Serie C deliberata dal Consiglio federale. Per il club sarà una giornata spartiacque. Lo sblocco delle quote della Green Sports, società che detiene il 60% di Teramo Calcio SRL, riapre qualche speranza per il club bianco-rosso in vista del ricorso al collegio di garanzia dei coni che sarà discusso questo lunedì nel primo pomeriggio. Nella dirigenza terramana c'è l'auspicio che il riprendere la totale autonomia gestionale possa convincere i giudici a dare una chance al Teramo di mantenere la Serie C. Il ricorso della DCF Legal degli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari continuerà a far leva sull'impossibilità del management di agire a pieno regime nella soddisfazione di tutti gli adempimenti previsti per l'iscrizione entro il termine perentorio del 22 giugno, proprio per la presenza del Tribunale di Roma, che aveva la custodia delle quote di maggioranza. Oltre a ciò, prima dell'udienza di lunedì pomeriggio, i legali produrranno una ulteriore memoria nella quale si sottolinea l'avvenuto sblocco delle quote, fatto verificatosi la mattina di martedì scorso all'indomani del termine per la presentazione del ricorso al collegio di garanzia del coni, inoltrato lunedì. I legali chiederanno anche una direzione dei termini per poter sanare le omissioni rilevate dalla Covisoc. In realtà, un obiettivo è stato già raggiunto, il piano di rateizzazione delle annualità pregresse dell'IVA, chiesto il 20 giugno, ma ottenuto oltre il termine perentorio del 22, cioè il 5 luglio. Lo scoglio più alto resta dunque il ripienamento dell'indice di liquidità per una somma che sfiora il milione di euro e che scende a 812 mila euro, volendo includere il saldo attivo della campagna trasferimenti. Nei piani di Davide Ciaccia c'è la cessione del 60% delle quote di Greensports all'imprenditore Giuseppe Spinelli, che anche nell'intervista rilasciata ieri al messaggero ha confermato la sua disponibilità. Resta da capire se sarà realmente disposto a sostenere una spesa così onerosa senza avere la certezza di poter disputare la Serie C, unica categoria a cui l'imprenditore siciliano d'origine e che opera alle porte di Roma è interessato. Insomma, un piccolo spiraglio c'è, ma la battaglia per tenere la C resta estremamente complessa. In caso di esito negativo al CONI ci sarebbe poi la giustizia ordinaria e quindi il TAR, ma a quel punto il sindaco Gianguido D'Alberto, che segue da vicino l'evoluzione della vicenda, potrebbe rompere gli indugi, imprimere un'accelerata alla procedura prevista dall'articolo 52,10 delle NOIF e chiedere al Presidente federale Gravina, con cui giorni fa c'è stata una prima chiamata esplorativa, un titolo per l'iscrizione in sovrannumero di una nuova società nel campionato di Serie D, selezionata dallo stesso primo cittadino dopo un apposito bando e previo il rispetto di determinate prescrizioni economico-finanziarie. Tutto passa per il verdetto di lunedì. Signore e signori, con questa notizia termina l'edizione del TG6 La Settimana. Grazie di averci seguito, buona domenica.